Grazie alla collaborazione tra il comune di Cortina d'Ampezzo e la federazione italiana Tennis e Paddle, la storica Coppa Davis, il celebre trofeo della più antica e prestigiosa competizione a squadre del tennis maschile, è arrivata a Cortina d'Ampezzo per tre giorni unici. Il tour cortinese della Coppa Davis è iniziato questa mattina a Cimatofana, una delle vette più iconiche delle Dolomiti, offrendo una cornice spettacolare a residenti e turisti. Fa parte di un tour, di un trophy tour che noi facciamo in tutta Italia. Qua in Veneto la portiamo a Cortina e fra due giorni sarà posta nella stazione di Esolo. Io penso che questa sia un'iniziativa molto importante anche per il territorio di Cortina per dare un po' di importanza a quello che è lo sport del tennis, non solamente in tutta Italia e nelle città ma anche in un contesto di montagna come Cortina perché penso che questo paese, oltre a vari sport invernali, possa diventare in un prossimo futuro anche un punto di riferimento per il tennis italiano. Un'occasione unica per ammirare da vicino questo simbolico trofeo, uno dei più iconici della storia dello sport che dopo 47 anni torna in Italia. La nazionale italiana, capitanata da Filippo Volandri, composta da Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli, ha riportato il trofeo in Italia grazie a una straordinaria vittoria contro l'Australia nella finale di Malaga. È un momento molto particolare per il territorio di Cortina in vista delle Olimpiadi 2026 e sempre di più la centralità dello sport diventa importante per la nostra comunità. Sport sia invernale che estivo, lo vediamo anche durante questa stagione, tra gli eventi nazionali e internazionali che ospitiamo sia durante il periodo estivo che invernale, questa è la ciliegina sullo torta di un orgoglio nazionale. Da stasera fino al mattino del 16 agosto la Coppa Davis sarà spostata e visibile in casa Fondazione Cortina, situata in Corso Italia vicino all'Info Point Regione Veneto. Cortina, con la sua combinazione unica di bellezza naturale e tradizione sportiva, è stata scelta tra le 90 tappe italiane del Trophy Tour. Dopo la tappa Cortina la Coppa Davis continuerà il suo viaggio attraverso l'Italia, concludendo il suo tour all'Unipol Arena di Bologna a settembre. Il nostro obiettivo, e siamo molto orgogliosi di questo, è di creare una collaborazione con il Comune e l'Associazione Albergatori, e tutti gli enti e la federazione, per far sì che il tennis diventi per Cortina un punto importante, un punto di prestigio anche per le Dolomiti, e dove sia possibile che tutti possano accedere allo sport del tennis.